Ciao, ciao ragazzi! Oggi vorrei parlarvi di una materia molto vasta, una materia molto importante per il nostro strumento e per tutti gli strumenti specialmente affiato nell'ambito della musica jazz, cioè dell'articolazione. Che cos'è intanto innanzitutto l'articolazione? L'articolazione io la definirei come l'insieme delle norme, dei comportamenti che vengono adottate dal jazzista o dal saxofonista jazz nei confronti del lancia e nell'ambito un po' più generico dell'impostazione. Quindi diciamo così, l'articolazione risulta essere una disciplina, un aspetto della nostra esecuzione volto a donare il massimo significato ritmico, soprattutto nel nostro genere di musica, che la frase può ospitare e accogliere nella sua fase di esposizione. Quindi di conseguenza potremmo dire che da un punto di vista pratico è l'insieme dei comportamenti che noi adottiamo nei confronti del lancia con la nostra lingua, con il corpo di lingua, con il cavo orale e quindi esercitando tutta una serie di tecniche che hanno di solito una problematica, nel senso che non sono mai tradotte in un vero e proprio vademecum. Cioè infatti spesso molti saxofonisti e molti miei studenti negli anni si sono scoperti essere diciamo abbastanza sprovvisti di elementi voglio dire certi a questo riguardo. Cioè la domanda di base per portare a galla eventuali nostre discrepanze diciamo di conoscenza rispetto alla realtà dei fatti deve essere. Ma noi sappiamo sempre come articolare e in quale casistica precisa ricade diciamo una frase o un frammento musicale. Se la risposta è no vuol dire che abbiamo comunque del lavoro da fare in una sede o in un'altra. Ecco innanzitutto esiste esiste voglio dire una letteratura didattica riguardo infatti molti docenti io stesso abbiamo spesso usato negli anni questa catena di libri questa collana di libri scritta appunto dal grande Lanini House che è un celebre saxofonista che purtroppo tra l'altro ci ha lasciato da poco da proprio pochi giorni. che tratta insomma comunque sommariamente il tema dell'articolazione ma come viene trattato viene trattato proponendo una serie di esercizi oppure di brani sviluppati intorno a delle cellule più o meno ripetitive che consentono così al saxofonista potenzialmente di interiorizzare le strategie di utilizzo ma esiste un problema di fondo. Il problema risiede nel fatto che quando un professionista viene chiamato a suonare in una big band sia esso come ospite o come primo alto a me è capitato spesso negli anni poi avendo voglio dire così plasmato negli anni un'identità un po' più da solista mi è capitato un po' più raramente. Però appunto anche in questa veste solistica sono stato chiamato da tante formazioni che stimo tantissimo. E una delle cose che potrebbe, uno degli aspetti che potrebbe colpire di più un neofita è proprio quello di trovare davanti la parte ma senza nessuna delle beneamate indicazioni che vi spiegano come suonare la nota e come enunciarla. Quindi non ci sono accenti in questo caso cioè il mondo vero diciamo reale dell'attività professionistica prevede che il jazzista, il saxofonista jazz sappia correttamente, fluentemente attribuire giusti accenti. Esattamente come voglio dire un italiano abituato a usare la lingua italiana se legge un libro non sa, cioè non ha bisogno di trovare scritti gli accenti dove vanno, su quale vocale, se all'inizio o alla fine della frase, se sulla radice o sulla desinenza voglio dire. Noi leggiamo italiano fluentemente e mettiamo i nostri accenti in base a tutta una serie di convenzioni e regole e la nostra amata musica jazz funziona esattamente nello stesso modo. Quindi la proprietà di linguaggio in termini di articolazione si acquisisce nel momento in cui io sono padrone di poter leggere un materiale musicale e attribuirgli il senso corretto senza aver l'ausilio di accenti di un tipo, dell'altro, quant'altro. Non ce n'è assolutamente bisogno. Questo ve ne rendete conto perché poi suonando con sezioni composte da professionisti, ecco, si parte e è subito buona la prima, cioè la sezione interpreta correttamente quella che è la concezione e l'accezione corretta della frase. E se si sgarra si sente tantissima, come mettere un errore sotto un microscopio che ingrandisce all'ennesima potenza. Ma vediamo insieme quali sono alcuni degli errori più grossolani e più pericolosi per quanto riguarda la docenza, cioè l'ambito proprio didattico legati all'articolazione. Il primo fra tutti, ed è un po' quello a cui volevo dedicare questo filmato perché mi è capitato, mi capita veramente di continuo incontrarlo in tanti studenti che hanno all'attivo percorsi con altri docenti. E io voglio semplicemente dire la mia senza peccare di alcun giudizio negativo a priori, ma facendo delle valutazioni di tipo storico e fraseologico. Ovvero sia il primo principale grossolano errore è quello di accentare il levare, cioè il fatto di porre il levare su un piano di importanza diverso. Ok? Questo poi che tipo di traduzione pratica assume? Diventa diciamo pratico l'errore in quella diciamo convenzione che tantissimi docenti, quindi poi tantissimi studenti di conseguenza hanno, di legare le note a due a due, con la cosiddetta legatura a cavallo. Quindi che cosa succede in questo caso? Per esempio se io ho una quartina di quattro ottavi, no? Da, 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 ok? Che cosa succede quando io porto con il portato, quindi con, diciamo così, il colpo di lingua sul ciglio del lancia, dato ovviamente in maniera gentile, in maniera leggera, ok? Non è uno staccato o altro, il portato è proprio la lineetta sul lancia per intenderci. Implicitamente, indirettamente, il portato attribuisce in uno scenario di articolazione un accento. Quindi se io ho quattro quartine, faccio da, ok? Quindi lego sotto una stessa cupola di legato queste due e questa con quella successiva, io che cosa faccio? Da, 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 ma sentite anche soltanto a livello di voce. Da, 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 in realtà lo sto accentando, perché il colpo di lingua in un contesto dove esso si contrappone al legato è matematico che vada ad elevare, diciamo così, il ruolo di quella nota innalzandolo rispetto alle altre. Quindi il risultato, e prima vi ho dato una lettura teorica e poi il riscontro pratico che trova questa, questa pratica, a mio avviso, a me purtroppo fortemente negativa, è che io accento sistematicamente il levare, ok? Quindi, di conseguenza, questa è una pratica, a mio avviso, scorretta, poiché allontana fortemente la visione di linguaggio da quelli che sono i reali obiettivi del fraseggio jazz, ovvero una eterogeneità molto più complessa. Cioè, quello che, passatemi il termine, mi viene da dire, ma magari, ma magari fosse così semplice, articolare, soltanto legandole a cavallo, purtroppo non è così. E anzi, vi posso, diciamo, portare numerosi esempi in base al quale non solo non siamo corretti da un punto di vista di articolazione, poiché appiattiamo imponendo una regola unica, totalitaristica, diciamo così, totalitaria e a prioristica su tutto il linguaggio, ma proprio ci andiamo a mettere in una conca anche a livello di swing, quindi di oscillazione degli ottavi nel quarto, che ci allontana veramente tantissimo dallo swing invece più efficace da un punto di vista ritmico. Quindi, le gare a cavallo, le gare a due a due, diciamo, se sono quattro, appunto, la seconda con la terza, la quarta con la prima della quartina seguente, è, a mio avviso, un problema da istirpare immediatamente. Se vi riconoscete in questa descrizione, significa che, a mio avviso, c'è del lavoro da fare. Ecco, ripeto, non voglio fare giudizi su nessun docente che magari vi ha impartito questa tecnica, ma è la realtà dei fatti a, diciamo, a rendere come complesso, eterogeneo e incredibilmente più variegato il mondo dell'articolazione. Cioè, la condotta che io devo avere verso la nota dipende strettamente dal ruolo che ha la nota in quella frase e ce ne sono tantissime. Io non dico per primo, perché sicuramente ci saranno, credo, immagino, dei precedenti. Non ne ho mai avuto il bisogno di chiamarli in causa, di citarli, perché avendo una mia personale dispensa, una mia personale, diciamo, tabella di marcia, in questo senso non ho mai fatto uso di altri metodi o altre dispense. Ci sarà sicuramente un va-de-me-com. Nel qual caso voi non lo aveste con voi, io l'ho realizzato e vi posso garantire che ogni nota, a seconda del suo ruolo, in un contesto fraseologico, va trattata in un modo diverso. Sicuramente bisogna partire dal portarle tutte, perché la nostra, comunque, è una musica che, ricordiamoci, nasce legata alla funzione occasione del ritmo. Pertanto il colpo di lingua, delicato, leggero, è ritmo, quindi va conferito ad ogni nota. E poi, di conseguenza, dobbiamo assolutamente attenerci a un bagaglio di casistiche che, di volta in volta, ci mettono di fronte alla realtà dei fatti. Altrimenti sprofondiamo in cosa? Sprofondiamo nello swing a tarantella, in uno swing un po' goffo, appesantito, non fluente, non liscio, diciamo così, e quindi, di conseguenza, andiamo fuori strada. Ecco, vorrei farvi un brevissimo esempio che, comunque, già a livello vocale, avete sentito come questa pratica vi allontana da, invece, una un'enunciazione gezzistica propriamente detta di una frase, vi faccio un esempio citando un brevissimo tema che, proprio, poco fa, con uno studente, ho usato come esempio. Parlo di ornitologi, di Charlie Parker, no? Quindi, vi faccio sentire, prima, una mia interpretazione a livello di articolazione e poi, quella che è oggetto del filmato, cioè quella del legare a cavallo a due a due. Eccetera, eccetera. Ok? Proviamo adesso a sentire che la salta fuori si le leggo tutte a due sistematicamente, aprioristicamente. One, due, one, una. Sentite come, nelle sezioni in cui ci sono tanti ottavi, la frase, l'enunciazione, il labiale di questa frase diventa appesantito, diventa goffo, diventa, voglio dire, diventa una sorta di linguaggio appesantito, diventa veramente poco fluente e poco inclina a quella che è la vera natura ritmica invece dell'articolazione dei suoi obiettivi. spero che questo breve filmato sia stato utile, ricordo a tutti voi che è ancora disponibile la dispensa Omnia Chromatix per un download libero su tutti i vostri dispositivi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon sax. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.